Un consiglio che io do per tutti voi, per lo meno chi ha una loggia, no? Qual è il cliente, generalmente, che come il cioccolato e lecce? Sappiamo che il cioccolato e lecce è un servizio che si vende abbastanza, ma generalmente, chi come il cioccolato e lecce è criança e persone che gostano di cioccolato, ma stanno poco e stanno buscando qualcosa molto particolare, non è che stanno buscando un'aromatizzazione, un'acidez particolare, no, stanno buscando un sapore al cioccolato, ma stanno poco e nada di particolare. Agora, generalmente, quando è che si colloca, per esempio, un cioccolato, per lo meno un cioccolato di buona qualità dentro di un cervello, quando busco un'aromatizzazione particolare, gostei da quelli cioccolati, gostei da acidez da quelli cioccolati, do aroma, e ai botto questi cioccolati. Ma, per un pubblico che, o meglio, non va a entendere questa cosa, per voi, è giusto, no, è, sì, è giusto colocare un cioccolato che ha meno fibra, quindi ho dovuto colocare più quantità, che è o meglio, il mio cliente non va a entendere questa cosa, e gastare più dinero per questo. Voi, dopo, dovranno scegliere questa cosa, ma io, personalmente, in un cioccolato, c'è un leccio, io nunca coloco cioccolato, ripeto, a meno che non voglio fare qualcosa di particolare, ma, generalmente, io coloco cacao in po'. Perché? Perché il cacao in po', con poca quantità, mi dà una grande quantità di fibra, e mi dà la forza, mi dà quel sapore al cioccolato, o meglio non terrà una grande aromatizzazione, no? Grazie a tutti.